È stata ritrovata in fin di vita a Terra Nuova Bracciolini, all'apparenza vittima di un incidente stradale, ma in realtà a ferire la lupa sarebbe stato un colpo di arma da fuoco. È successo la scorsa domenica in via Borgo delle Cave, a segnalare la presenza dell'animale sdraiato lungo la carreggiata un passante. Immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi, i carabinieri hanno attivato il servizio di recupero della fauna selvatica gestito dalle impronte del bosco. La veterinaria arrivata sul posto ha trovato l'animale in stato comatoso, ipotermico, non reattivo e letteralmente mangiato vivo dalle mosche. La lupa è stata così trasferita in ambulatorio, dove però a nulla sono valsi i tentativi di salvarla e deceduta poche ore dopo. Dai successivi accertamenti è però emerso che non si era trattato di un incidente automobilistico, ma un vero e proprio atto di bracconaggio. Le radiografie hanno infatti accertato che la lupa era stata ferita da una pallottola ad una spalla, probabilmente qualche giorno prima del ritrovamento. Le ferite provocate avevano aperto la strada all'infezione, poi risultata fatale. Ricordiamo che il lupo è un animale ancora protetto e atti come questo sono condannabili, commenta la veterinaria Jessica Senza Amici, delle impronte del bosco. Sono infatti in corso, conclude, le indagini della Polizia Provinciale di Arezzo.